Ora passiamo alla parte rodica, come spiego dopo la tecnica all'origine, adesso andiamo a vedere i punti esatti. L'intestino tenue abbiamo il punto 2, la risceca e l'altra parte, il punto 3, la mano sopra il punto del naso e il fegato. Quindi semplicemente si va a digitare la pressione, si può fare secondi, ossia con qualsiasi oggetto che possa applicare una pressione leggera, che non graffi, ma precisa. Poi in quattro, sopra le sopracciglia, sia destra che sinistra. Poi, la sesta zona. Ecco qui. Quindi tu, tu stai andando qua. Nella zona, la zona. Ecco qui. Ecco qui. La camerina. E semplicemente anche qui. Guarda i movimenti. Sesta zona. Poi, sesta zona. Rispondiamo la gestire. Quindi, sia destra che sinistra. qui è il massaggio più facile ed è appunto anche un po' detox lo stomaco è sotto i reni e in questa zona e anche in questa parte invece sono i reni che finiscono qui e come parte il stomaco ottava zona i polmoni i polmoni sono nella parte bassa nella parte bassa con il triangolo quinto l'intestino grasso invece l'intestino grasso l'intestino grasso è molto semplice ma questa è l'intestino la parte bassa l'intestino grasso tutta questa zona Mi ricorda che la zona va colorata, quindi io mi sto facendo vedere i bordi, però dovremmo semplicemente tornare a, come se questo fosse, questo è un pennello, però come se fosse, un pinto, un'ergo, 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 ok. E l'undicesimo è il pancreas, il pancreas va su tutto il naso, quindi l'impressione deve essere giusta, né troppo intensa, né anche troppo leggera, né troppo non abbia effetto. Quindi queste erano le zone che vi ho volto vedere prima, ma oggi andremo a focalizzarci sull'apparato in particolare, che è l'apparato osteoarticolare muscolare. Come ho detto, l'apparato è questa forma. Questa mappa qua si chiama mappa young, è rappresentato, si muore, con una condizione con l'ulto apprezzato e con il prozzo aperto. Le gambe invece sono piegate, un po' a rana, diciamo così. Quindi, la testa è su questo spazio, tonneggiando, quindi andiamo a colorare. Le gambe invece sono piegate, un po' a rana, diciamo così. Poi, le braccia. Le gambe invece sono piegate, un po' a rana, diciamo così. Poi, le gambe invece sono piegate, un po' a rana, diciamo così. E qui il braccio sinistro. E' proprio una forma naturale, testa, braccio, immagino proprio questo corpo. Finita il braccio sinistro, sulle tempie, troviamo le mani, in una zona verticale dell'attaccatore dei capelli, troviamo le dita, le mani, e qui. Nell'incapa del naso troviamo le cervicali. E qui abbiamo scelto sui contenitori, ed è un lombari, il nostro sangue e il contenitore. Quindi io ho il cervicale, l'unico del naso, sulla radice, torsale, l'omare, osso sacro e coccice. Sono entrambi i lati chanel e panoramore, quindi è qui e qui, semplicemente è più facile, con le dietro e panoramore, quindi andiamo a coronarla sulla base cervicale e poi andiamo piano piano a coronarla. Il resto della colonna vertebrale. Il resto della colonna vertebrale. Con potenzialità alta. Il resto della colonna vertebrale. 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 possono rappresentare le notiche poi il contorno delle narici poi come è naturale che sia come ci immaginiamo che sia le gambe e poi scendono un po' più come naturalmente il sole labiale e si incontrano qui quindi prima parte resta le cosce e il confine con l'altra parte di polpazio quindi andiamo a colorare la stanza questa parte è molto semplice molto intuitiva le braccia alle spalle iniziano a poterci si seguono un altro po' qui e quindi troviamo le gambe le gambe per questo aggare e quindi le gambe Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.